La quarta ondata, crescono i contagi in Italia, si teme per un Natale in fascia gialla. I governatori chiedono al governo restrizioni per chi non ha fatto il vaccino. Migliaia di persone al freddo, senza cibo e picchiate dalle forze di polizia al confine tra Bielorussia, Polonia e Lituania dà alla Caritas la richiesta di intervenire il prima possibile. Sorrentino torna nella sua Napoli per la prima di Estata la mano di Dio, il film autobiografico del regista a parte europeo candidato dall'Italia alla corsa per l'Oscar come miglior film straniero. Buonasera, in Italia i nuovi contagi torrono oggi sopra quota 10.000, non accadeva dai primi di maggio, pressing dei presidenti di regione sul governo per adottare nuove restrizioni soprattutto nei confronti dei non vaccinati. Intanto da domani in Lombardia sarà possibile per gli over 40 prenotarsi per la terza dose. Barbara Masulli e Luciano Piscaglia. Erano sei mesi l'ultima volta a maggio che i contagi in Italia non superavano quota 10.000, oggi sono 10.172, i morti 72 e il tasso di positività sfiora il 2%. Non bene neanche i ricoveri, più 90 quelli ordinari, 5 più di ieri le terapie intensive. Davanti a questi numeri è inevitabile aspettarsi una maggiore rigidità delle misure da parte del governo. Il consulente del ministro della salute Ricciardi chiede di non rilasciare il green pass a chi si tampona con l'antigenico perché poco attendibile. Allo studio del governo inoltre c'è la riduzione della durata del certificato verde da 12 a 9 mesi, mentre nelle prossime settimane dovrebbe essere prorogato lo stato di emergenza di 6 mesi, quindi fino a luglio. Intanto il segretario del PD Letta sposa la proposta di alcuni governatori che vorrebbero seguire la strada dell'Austria, ossia quella di un lockdown riservato agli italiani non vaccinati. Ipotesi che al momento l'esecutivo non prende in considerazione. Da domani sarà possibile prenotare la terza dose anche per gli over 40 lombardi. A proposito di terza dose, l'altro provvedimento che verrà approvato a breve per contrastare il virus è l'obbligo del booster per gli operatori sanitari. Proprio loro sono scesi in piazza oggi, ma per altre questioni. Chiedono una riforma strutturale di pronto soccorso in grave crisi per la carenza di organico. Mancano 4.000 operatori tra medici e infermieri. Oggi noi chiediamo al governo che il pronto soccorso, che è il diritto per eccellenza alla salute, possa essere salvaguardato per tutti i cittadini, compreso noi stessi. Sono sì preoccupata perché mi rendo conto che molte persone ancora pensano che il virus sia un gioco. Naturalmente tutti preferiremmo fare un Natale diverso da quello dell'anno scorso. Speriamo che tutto vada bene, però è ovvio che la situazione preoccupa perché ormai vediamo che da un mese a questa parte i casi sono sempre in aumento. Mi sembra che ci sia però poco sensibilità perché tanti non ascoltano. Io penso che dovrebbero fare assolutamente il lockdown per le persone non vaccinate. Io sarei più d'accordo per una vaccinazione obbligatoria perché è inutile che ci prendiamo in giro. Se tutti ci comportiamo bene sicuramente riusciremo a tenere sotto controllo il Covid, vero? Record di contagi in Austria, Germania e Repubblica Ceca. La quarta ondata in Europa accelera. La situazione pandemica in Germania è drammatica. Lo dice Angela Merkel. Il numero dei pazienti nelle terapie intensive sale rapidamente e anche quello dei morti è spaventoso, ha detto la cancelliera. Immagini sconvolgenti arrivano dal confine tra Bielorussia e Lituania dove la guardia di frontiera lituana aizza i suoi cani contro un gruppo di migranti. Intanto dalla Caritas arriva l'appello ad agire in fretta per salvare vite umane. Marco Burini. Bussano alle nostre porte ma l'Europa è murata. Questa è la fotografia della Caritas per un continente che spende un mare di soldi per blindare le sue frontiere. 6 miliardi e 240 milioni di euro nel bilancio 2021-2027. E oggi elargisce 700 mila euro per fornire aiuti alle famiglie bloccate al confine tra Bielorussia e Polonia, come annuncia la presidente della commissione von der Leyen, per la quale l'Europa sta dalla parte dei migranti. Davvero? I richiedenti asilo sono solo lo 0,59% della popolazione dell'Unione, nota la Caritas, ma vengono trattati come un'orda imponente e minacciosa, da respingere con ogni mezzo. Il governo polacco dice di essere pronto a resistere per mesi, anni. E dopo la Lituania, le cui guardie di frontiera fanno azzannare questi poveri cristi dai cani lupo, anche l'Estonia mobilita i soldati alla frontiera con la Russia di Putin, grande sponsor del dittatore bielorusso Lukashenko, che dopo aver parlato al telefono con la Merkel, ha dato il via libera a negoziati tra Minsk e Bruxelles. Ma se non si passa dalla polizia alla politica, non si va lontano. Mentre loro gelano, o affogano, o soffocano per i gas di scarico, è capitato ad alcuni disgraziati sul fondo di un barcone partito dalla Libia. 99 i soccorsi, ma 10 non ce l'hanno fatta. L'SOS era stato lanciato 13 ore prima. La pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale, scrivono i Vescovi italiani nel messaggio per la giornata della vita che si celebrerà il 6 febbraio del 2022. Nella riflessione, profondamente calata nella realtà della pandemia, l'invito a ciascuno a farsi custode dell'altro. Abbiamo assistito, si legge nel documento, a manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti. Tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione. Una diciannovene italiana di origine kosovare è stata arrestata dalla polizia a Milano con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori si tratta di una sostenitrice dell'ISIS, Alessio Orlandi. Si faceva chiamare sposa pellegrina e stava sempre chiusa in questa casa di Via Padova, a Milano, per non farsi contaminare dagli occidentali. Qui, ospite del fratello, attraverso numerose chat telegram, secondo gli inquirenti, manteneva i contatti con i jihadisti della diaspora kosovara, i cosiddetti leoni dei Balcani, affiliati all'ISIS, convinceva molte ragazze e anche minorenni a unirsi allo stato islamico e dava sostegno alle mogli di alcuni estremisti in carcere per terrorismo internazionale. La stessa accusa con cui è stata arrestata questa mattina dalla polizia la diciannovenne Italo Kosovara, Bleona Tafallari, che già dall'età di 16 anni aveva abbracciato la causa jihadista, pronta al martirio. Sul suo cellulare gli investigatori hanno trovato migliaia di immagini di combattimenti, di attacchi terroristici nelle città europee, video di decapitazioni e alcuni documenti su come realizzare ordigni artigianali. Tra i file sequestrati anche la foto del kamikaze che lo scorso 26 agosto si è fatto esplodere all'aeroporto di Kabul provocando centinaia di morti tra i civili che scappavano dall'Afghanistan. In un altro video la giovane intona un canto religioso enneggiante al defunto capo dello stato islamico al Baghdadi e in cui si vota al martirio. L'indagine coordinata dalla procura di Milano è partita da una segnalazione dell'intelligence sul marito della ragazza, un 21enne cosovaro imparentato con l'attentatore di Vienna che nel novembre del 2020 sparò in diversi punti della città uccidendo quattro persone. La cronaca a Sassuolo in provincia di Modena un uomo uccide la moglie, la suocera e i due figli di 5-2 anni probabilmente con un coltello e poi si toglie la vita secondo le prime ricostruzioni l'uomo nel primo pomeriggio avrebbe ammazzato prima la moglie e poi i due bambini maschi e a seguire la madre di lei di 64 anni. Parliamo adesso di automobili e rivoluzione ecologica o meglio come cambiare il nostro rapporto con la macchina guardando anche alla salvaguardia dell'ambiente. Silvio Vitelli. Auto, che passione! Complici la comodità, la mancanza spesso di un adeguato sistema di trasporto pubblico e di infrastrutture per muoversi con mezzi più leggeri ed ecologici, gli italiani sfidano ingorghi e caccia al parcheggio pur di viaggiare a bordo della propria automobile. Una svolta verde comunque c'è. Lo scorso anno le immatricolazioni di auto ibride elettriche sono aumentate del 20%. Quest'anno poi le vendite di auto ibride sono superiori a quelle diesel. Su questo fronte l'Italia è prima in Europa, mentre segna un ritardo sulle ibride plug-in elettriche pure, le due tipologie che hanno bisogno di postazioni di ricarica. Il resto del parco auto italiano non soddisfa. Oltre i 12 milioni di veicoli non superano lo standard di emissioni Euro 3. Dati contenuti nel rapporto Audimob presentato al CNEL. Boom delle biciclette. Complici bonus governativi, nel 2020 ne sono state vendute oltre 2 milioni. Ogni 114 sono elettriche. Maglia nera il trasporto pubblico, penalizzato dalle misure anticontagio. La perdita di passeggeri non è solo quella dovuta alla capienza ridotta dei mezzi, ma si legge anche nei numeri che indicano le intenzioni dei cittadini su come spostarsi in futuro. Ma c'è un'eccezione ed è il treno, sempre più scelto ed apprezzato. Anteprima napoletana per E' stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino, candidato italiano all'Oscar e che dal 24 novembre arriva al cinema. Fabio Falzone ha incontrato il regista. Vediamo. E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino racconta la storia di Fabietto che nella Napoli degli anni 80 perde i genitori in un drammatico incidente a Roccaraso. Lui e il fratello si salvano, sono rimasti a Napoli per assistere alla partita di Maradona. Un fatto che ha cambiato la vita del regista Paolo Sorrentino, ma che il film, drammatico, tramuta in un messaggio di speranza, in particolare per i giovani. E dopo il successo di Venezia, il film è candidato all'EFA all'Oscar europeo e ora la scelta italiana per l'Oscar. Qui c'è l'EFA che si avvicina, la scelta italiana per l'Oscar, insomma, materia che già avevi praticato. Siamo in una città che ha fatto della scaramanzia un suo punto di forza. Quindi che facciamo? Quindi glissiamo, facciamo, facciamo. Facciamo, facciamo, facciamo. Riguarda un po' tutti noi e quindi probabilmente se le persone sentiranno empatia per questo film, questo film sarà un film amato. Sì, sì, ma noi siamo pronti. Puoi essere pronte, benissimo. Con questo è tutto, vi lascio al Rosario dal Santuario della Madonna di Pietra Aquaria in Avezzano. Grazie di essere stati con noi, a voi tutti. L'augurio di una buona serata. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.